buongiorno buongiorno intanto c'è la chat se volete fare un paio di domande eccoci buongiornissimo direi buongiornissimo iniziamo a vedere sicuramente il bel bitcoin con oggi un po di dump che guardando questo grafico settimanale non sembra niente ma su daily o qualcosa si sta sentendo l'inizio di un dump abbiamo un meno 4 e mezzo nella giornata quindi vedrei due robe prima di tutto è un rifiuto settimanale se chiudiamo così la settimana e da vedere anche la giornata però la settimana è molto più importante proprio come rifiuto del massimo dell'olta i miei precedente perché vedere una chiusura così con chiusura anche della candela precedente weekly proprio sul massimo mi dice un rifiuto la cosa bella è che abbiamo preso questo massimo che avevi chiamato anche da un po di live sui 72 73 quindi perfetto e andando a vedere questo spike quindi non abbiamo avuto delle accettazioni al momento di questo livello e ho un livellone una trend l'ha insegnata metto un mensile per vederlo bene forse vediamo se dal mensile mi si vede altrimenti torno sul sul weekly prendiamo questo livello perché non so se l'ho fatto vedere le settimane scorse ma è veramente bello secondo me proviamo a vedere qualcosa del genere sarebbe il primo massimo del 2017 e poi vari massimi minimi che ci sono stati qui dentro che se in zoom un po si vedono meglio e coincide col massimo che abbiamo preso ora quindi è un livello che forse non si guarda neanche che non andresti neanche osservare però l'ho tirato proprio a caso e ha preso questo massimo potrebbe essere il top di bitcoin non lo so secondo me per per avere una vera bull dobbiamo fare un'accettazione sopra adesso questo livello sopra il nuovo oltre mai di bitcoin diciamo dimmi un po la tua visione secondo te c'è un dump aggressivo cosa succede cosa cosa vedi nel mercato ma allora vedendo un po appunto come anticipato lì quello sul discorso del tocco che stavamo vedendo da tanto tempo comunque come 72 73 mila 100 più 100 meno sostanzialmente di btc qua viene la parte interessante proprio per un discorso di collegamento di liquidazioni e distribuzione poi della liquidità io sinceramente la vedo bene questa cosa qua che hai tracciato mi piacerebbe vedere sai cosa anche se tu collegassi il massimo dove sei partito col massimo del 2021 2022 e quindi tracciare una trendline da lì esatto dove arriveremmo come prezzo si all'incirca così va direi che va bene allora dipende dalla fase di mercato sicuramente però qui al prezzo alla data attuale sarebbe dai 140 mila in su fino a 150 160 estesissimo sì 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 no sarebbe proprio molto molto esteso adesso comunque a parte queste cose qua per andare a vedere un po come si possono conformare parentesi perché è tutto su logaritmico e quindi mettiamolo normale questa cosa normale sarebbe adesso sui 100 mila 99 100 quindi sarebbe sarebbe un'ottima un'ottima zona comunque effettivamente per per andare poi a creare questo canalone no tra quelle quella th lì precedente e poi quello quello attuale cioè quello attuale quello del 2021 io penso che comunque come situazione adesso noi dobbiamo confermare parecchio e questa situazione qua come avevamo detto penso che possa portare un po una correzione e non è che stiamo dicendo che domani si torna 12 mila questo assolutamente però una correzione diciamo come come fasce che vanno all'incirca fino ai 58 mila all'incirca comunque nello spike precedente del primo massimo del 2021 all'incirca se non sbaglio scusami esatto lì sì esatto dentro questo range qua dentro questo spike qua secondo me si può si può intravedere la correzione perciò siamo tra i 60 64 e i 59 più o meno dovrebbe essere una cosa del genere potrebbe essere un'ottima zona di correzione appunto di btc e in questo caso si farebbe poi interessante per le per le altcoin quindi un po di un po di taglio un po di sì un po di liquidazioni anche perché ricordiamoci ragazzi stiamo comunque siamo vicini all'alving mancano 32 giorni così c'è scritto su coin market cap giorno più giorno meno io penso che la correzione possa avvenire prima dell'alving per poi proseguire magari ancora un pochettino dopo dopo l'alving e poi diciamo ripartire in un mercato un pochettino più più rialzista principalmente però ci vedrei una una spinta molto più forte per le alte rispetto btc seppur btc comunque già da un anno che sta correndo quindi non dico che spombo perché può da regalare ancora tanto ma le alte hanno ancora secondo me ancora da dare tantissimo come performance le medio basso capitalizzate si sono d'accordo con te ti ricordo che c'è ancora attivo l'air drop di 200 dollari in leva su bitcoin od ether con by bit link in descrizione è valido solo per i nuovi utenti che depositano almeno 100 dollari due persone per ora l'hanno preso su un totale di 50 disponibili ci sono dieci partecipanti validi perché basta registrarsi fare che vuoi sì e depositare i primi 100 dollari poi lo ricevi tranquillamente quindi ti ripeto ci sono ancora 48 airdrop disponibili fino alla fine del mese quindi registrati dal link in descrizione se ancora non sei registrato a by bit e prendi questo bonus che è veramente veramente figo andrei a fare una parentesi di bitcoin dominance nella scorsa live abbiamo visto questo possibile scenario estremo in cui bitcoin perda dei supportoni importanti e faccia partire bene le alte come vedevamo anche magari in questo scenario futuro però è possibile che con l'alving lateralizziamo un po in questa zona dai 53 ai 50 forse per poi dopo l'alving vedere le alte dare bene una delle notizie recenti che ho visto era la pressione contro gensler per non approvare più etf per evitare scam e rove del genere quindi entra un po questa narrativa magari delle news negative quando siamo in all time i dipende entra un po di tutto però adesso è da capire secondo te ci saranno nuovi etf soprattutto su ether che è il primo che ci aspettiamo per poi passare anche un po al buon ethereum vedere un po il suo grafico ma secondo me se deve proprio arrivare un etf può arrivare solo su ethereum cioè su altre cose penso che non sia proprio sensato quelli che sognano un etf su solana o xrp così cioè secondo me è proprio utopia o perlomeno secondo me non avrebbe proprio senso lì si capirebbe quanto c'è di marcio dietro ethereum alla fine ha molto più senso lato lato use case lato comunque ok storicità lato un po tutto seppur anche xrp sia quello più vecchio poi subito dopo però comunque sarebbe un po un un degenero a parte che se xrp dovessero lanciare l'etf non voglio neanche immaginare che candela verrebbe fuori sul grafico di xrp ma vabbè tralasciando questi discorsi appunto topistici secondo me eth però sembra che vogliono rimandarlo un pochettino di più l'etf quindi non sarà quasi non è più aspettato per maggio perché c'è un percentuale di possibilità che questo avvenga perciò le percentuali si sono abbassate diventa un po un po più un po più tosto ecco magari può fare una piccola correzione e poi bisogna aspettare la notizia di una conferma eventuale o comunque un innalzamento della della percentuale di fuoriuscita dell'etf sì infatti guardando un attimo eter dopo aver toccato i 4100 quasi siamo in maniera diciamo pesante quasi ai 3.700 al momento su daily secondo me queste medie sono importanti da guardare sono medie di breve breve termine che però funzionano molto bene in trend quindi vedi come si è appoggiato più volte per partire se adesso dovessimo chiudere sotto potremmo avere un bel ritracciamento sensato per capire dove arriviamo ipotizzo a random almeno 3100 quindi riassorbire un bel po in percentuale già adesso sarebbe un meno 15 meno 16 per non arrivare addirittura 0 61 che a 2009 3.000 comunque questo range direi come prima zona potente forse poi andrebbe a coincidere con magari una media 200 su time frame più alti o più bassi e ci sta ancora di più dimmi un po se ether lo vedi perdere un po più punti o comunque secondo te magari già adesso si potrebbe fermare secondo me in caso dovesse andare tutto all'etf perderebbe ancora un po di di scena esatto esatto concordo con te nel senso che l'unica cosa che potrebbe effettivamente far scendere eth è semplice rimando dell'etf e quindi spostare un po la la domanda far fuori uscire appunto un po di un po di capitali che potrebbero riversarsi appunto sempre nelle coin più un pochettino più piccole per giocare un po alla speculazione vero è che comunque rimango dell'idea che con l'etf di eth si potrà vedere poi effettivamente una vera una vera e propria bull run sulle sulle altcoin con percentuali davvero folli anche perché btc se adesso comunque dovesse chiudere anche sotto o sui 68.000 specialmente anche settimanale come stavamo dicendo prima lì diventa già più plausibile un proseguimento della della correzione no bisogna vedere perché ormai ora come ora in questi livelli qua viene tutto un po difficile essendo tutto la prima volta sostanzialmente quindi questo è l'unico dubbio però ethereum sì io ci vedo una correzione interessante infatti ci sono un paio di cose che volevo vedere dopo come aveva citato prima della live anche ether bitcoin può essere molto interessante noi in caso di etf stiamo solo speculando tutti noi sull'approvazione di ether spot etf perché non è detto che arriverà ci speriamo tutti c'è una bella confidence che dovrebbe arrivare però è sempre una speculazione non abbiamo noi la decisione finale purtroppo e quindi anche tutto il pump infinito che potremmo avere sulle alt è sempre una speculazione in maniera più aggressiva perché adesso con questi dump potrebbero essere occasioni incredibili di posizionarsi sulle alt e in questa live vedremo come ci posizioneremo di nuovo su alcune altcoin andrei un attimo su ether bitcoin perché il livello di supportone chiave è di nuovo lo 0 49 quindi perdere un bel po' a confronto di bitcoin in caso bitcoin dove un 10 per cento in meno in caso bitcoin dovesse scendere un pochino magari sui come dicevamo prima 61 59 ed ether davvero ti arriva a 3000 o anche meno ether comunque in teoria sta perdendo di più di bitcoin quindi probabilmente anche nella sua dominance diciamo ether bitcoin potrebbe raggiungere di nuovo un supporto interessante penso che sei allineato con me su questa cosa sì sì specialmente proprio per il fatto della della correzione che mi piacerebbe vederla su ethereum bitcoin proprio per il fatto di appoggiarsi in quella zona lì che va esatto su zone tra 0 50 1 0 48 e 3 e poi andare andare a spingere e che con la spinta appunto di ethereum rispetto a btc allora lì penso che verrebbe fuori qualcosa di divertente per le per le altcoin che abbiamo anche in portafoglio sì infatti facciamo uno sguardo veloce alla total 1 2 3 nella total 1 sembra quasi la stessa situazione di btc quindi rifiuto di questo massimo non quello totale e rimangio per ora l'altra volta infatti abbiamo detto che potevamo lateralizzare in questo range ti aspetti ora di poter lateralizzare addirittura riprendere un minimo più ampio quindi qui sotto addirittura o te lo immagini ancora qui dentro ma me lo immagino sinceramente ancora lì dentro perché sarebbe in concomitanza comunque vabbè con spike che magari arrivano anche un pochettino più in basso fino a dove hai appunto anche il cursore quindi 2 2 2 3 come come fascia e quindi rimbalzare tra lì e lo spike che abbiamo adesso quindi 2 5 2 2 2 3 e 2 5 2 6 all'incirca quindi rimbalzare un po qua che sarebbe la posante perfetta proprio ti ho perso nel nel pezzo finale vediamo aspetta aspetta che ok mi è saltata me la connessione sì nel pezzo finale ti ho perso e basta quindi del 2 2 2 2 3 ok 2 2 2 3 e 2 5 2 6 come come zona e sarebbe il posto perfetto nel quale far lateralizzare bitcoin con comunque una una correzione e far poi arrivare liquidità all'interno delle delle coin in questo tratto perché alla fine 30 giorni che siano per l'albing non è che siano così tanti perciò abbiamo fatto lateralizzazioni su bitcoin ben più lunghe anche se ora siamo in una fase un po euforica una lateralizzazione e correzione secondo me sarebbe ottima in questa in questa fascia poi zona 2 2 2 1 non sono impossibili da da prendere vedendo comunque l'estensione perché non abbiamo fatto ancora correzioni pesanti quindi prima fascia quella rotta quella allora i 2 2 2 2 1 potrebbero essere ottimali per fare una bella rincorsa se passerei al volo su total 2 3 perché più o meno la 2 è partita bene aggressiva questa mensile in realtà su weekly è abbastanza in dodge quindi piatto avevamo visto un possibile dump più aggressivo che è anche lo scenario che ci aspettiamo magari con ether che va a perdere un po di più e di conseguenza anche le alte che vanno a sanguinare un po di più magari per un periodo e poi una ripartenza penso che sia la stessa visione della settimana scorsa su total 2 3 dimmi te sì 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 assolutamente sì per ora la forse la 2 e la 3 scusami è un pochettino più in correzione rispetto più in correzione e abbiamo questo livello possibilmente anche questo che stiamo osservando io ti volevo fare una domanda prima di passare alle nostre alte sulla situazione di mercato è un po macro come visione comunque questo è un anno elettorale che aspetti che essendo diciamo ai massimi per cripto anche gli altri mercati dovrebbero essere belli spinti come vedi la situazione di mercato considerando il proprio anche i mercati tradizionali e non solo sui massimi diciamo è tutto sommato sai che alla fine ora siamo ancora in fase dove c'è ancora tanta liquidità di quella che è stata emessa e quindi sta venendo utilizzata perciò penso che siamo ancora in una fase abbastanza espansiva dal punto di vista dei mercati in generale e potremmo vedere qualcosa di indebolimento per il 2025 magari quindi un annetto un annetto e mezzo da quando avevano cominciato a stampare quindi era settembre fascia settembre novembre più o meno come ci sono state altre stampate grosse quindi possiamo andare un pochettino più lunghi a livello di cioè a livello di sentiment e come si stanno strutturando alla fine stiamo vedendo che la gente è disposta ad investire sui profili di rischio alto quindi come bitcoin per come sta investendo pesantemente comunque blackrock perciò io vedo al momento bene paradossalmente perché paradossalmente bene perché tra tutte le cose che ci sono in questo momento al momento bene vediamo se non salta fuori qualcosa ti volevo fare la parentesi qui invece su bitcoin visto che anche loro in oltre mai non lo vedi bitcoin trasformato ancora una volta in asset di riserva di valore piuttosto di asset di rischio dato che siamo in una zona allineata all'oro che loro dovrebbe essere opposto magari guarda io sono ancora un po non molto confident su questo discorso qua della protezione su su bitcoin come bene rifugio come come l'oro è vero è che comunque loro sta subendo delle percentuali davvero folli stile bitcoin praticamente però però no non ce lo vedo ancora così paragonabile alla stessa alla stessa maniera non per ora magari in un futuro un pochettino più lontano ma c'è ancora tempo secondo me troppo volatili ancora anche perché abbiamo visto che se vuole fare bitcoin le candele da meno 15 per cento in un giorno te le fa star nutendo quindi non può essere preso in considerazione come bene rifugio assolutamente considerando che è dieci volte più piccolo dell'oro e vedremo in futuro cosa succederà comunque c'è una storia molto molto piccolina bitcoin paragonabile all'oro non si può paragonare diciamo con la sua storia passiamo alle nostre bellissime alt per capire acquisti e non solo ok ricordiamoci sicuramente chiusura settimanale di bitcoin perché una chiusura sotto l'ultima precedente proprio di spike non è tanto positiva secondo me potrebbe fare anche l'infamata che chiude in doji perfetta e rimane in attesa di un'altra settimana ancora per dire mo cosa succede e poi lo stile di bitcoin tra l'altro quindi niente di e eter invece che sia importante che mantenga forse questo massimo quindi rispettare i 3500 potremmo prenderli a tranquillamente è ancora un bel dump di un 10 circa e poi vedere se cioè sarebbe una una reazione molto bullish secondo me c'è comunque un dump leggero e ci sta volendo visto che c'è tutta questa pressione istituzionale però sarebbe sarebbe un bel dump comunque sulle sulle alte perché comunque se adesso siamo sul 10 12 per cento di correzione attuale ancora perché non parte un po' bitcoin ma per il resto non mi sembra se si è recuperato granché sulle alte potremmo vedere un bel un bel proseguimento ecco sì 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 sicuramente vedremo un po' il muoversi il da farsi ipotizziamo per capire un attimo total 3 come questa zona volendo se si può essere carino osservarla c'era un minimo e quindi fare una cosa del genere sulla total 3 secondo me può essere uno scenario per salutarci carino vedremo poi cosa succede se escono da più aggressivi è un po di sangue sui mercati ma noi la liquidità bella carica ce l'abbiamo per buttare dentro un po di di cash diciamo anche con un altro 5 per cento speriamo di di fillarlo volentieri bene vi auguro una fantastica giornata e weekend e noi ci aggiorniamo alla prossima ragazzi ciao a tutti buona giornata e buona strutturazione ciao a tutti